Chi ha una ditta deve avere più attenzione a queste cose. Prima di aprire deve avere attenzione su chi ci lavora, perché per chi lavora porta avanti. Anna Rosone non aveva neppure due anni quando la mattina del 30 agosto dell'89 il padre Domenico perse la vita a Palermo nel crollo di una pensilina in acciaio di 4 tonnellate all'interno dello stadio La Favorita. Con lui morirono Giovanni Carollo, Ghetano Palmeri, Serafino Tuse, Antonino Cusimano, operai di un cantiere affidato alla Ponteggi d'Almine e ad altre imprese in subappalto che avrebbero dovuto terminare entro sei mesi da quel giorno i lavori in tempo per i mondiali d'Italia 90. L'inchiesta accertò che il crollo fu provocato da un errore nell'ancoraggio dei tralicci. In mattinata la filea CGL è tornata a ricordare all'interno del Barbera quelle vittime sul lavoro. C'era anche la moglie di Giovanni Nioffo, operaio morto lo scorso ottobre in città. Un incidente ancora senza verità giudiziaria. Ogni giorno ti proietti sempre lo stesso film, possibilmente con lo stesso scenario ma con colpevoli diversi. Quindi tu aspetti di sapere il perché tuo marito non torna più. La persona che ami, che può essere il marito, il fratello, il padre, comunque non tornerà più. Intanto i dati INAIL attestano un aumento dei incidenti mortali in Sicilia nei primi sei mesi del 2024 rispetto allo scorso anno. Sono già 13 nel Palermitano e 41 in tutta l'isola. Serve una legge che introduca il reato di omicidio sul lavoro perché altrimenti noi continueremo a raccontare di un ennesimo dramma, di un ennesima morte sul lavoro che non possiamo accettare.